Come si dice che ogni promessa sia un debito? Si dice che ogni promessa sia un debito, per noi di Volvo ogni promessa è un impegno. L'avevamo annunciato nel 2019, tutte le vetture che avremmo lanciato da quell'anno in avanti avrebbero avuto a che fare con motori elettrici, con il processo di elettrificazione. E infatti dal 2019 in avanti abbiamo prima lanciato molti motori mild hybrid, fino ai motori plug-in hybrid, l'anno scorso e anche l'anno prima abbiamo consentivato quasi il 35% delle nostre vendite in Europa e anche in Italia con le motorizzazioni plug-in hybrid. E poi è stata la volta della ESC40 BEV, la prima macchina full elettrica. Oggi siamo qui di fianco alla nuova stella della gamma Volvo, la nuova C40, il crossover medio-piccolo del segmento C, una macchina che sarà completamente ma soprattutto solamente elettrica, quindi la prima vettura Volvo completamente elettrica. Obiettivo, l'abbiamo detto, entro il 2030 arrivare ad essere produttori solo di vetture elettriche. Essere produttori di auto elettriche non basta, l'abbiamo detto, è molto importante per noi la sostenibilità, ma è molto importante anche l'esperienza che i nostri clienti vivranno nell'acquisire, nel guidare le nostre auto. È per questo che vogliamo entrare decisamente all'interno del mondo del web, dell'esperienza online, ed è per questo che le nostre vetture elettriche saranno acquistabili, noleggiabili, piuttosto che acquisibili con il sistema Care by Volvo, quindi con la subscription, con l'abbonamento, solo ed esclusivamente online. Naturalmente in collaborazione con i nostri concessionari, con i nostri retailers che saranno fondamentali nell'offrire questa esperienza ai nostri clienti. Un'esperienza che faccia della trasparenza nel prezzo, della trasparenza dei servizi, la parte più importante dell'offerta, un'offerta di mobilità totale, naturalmente, con le nostre nuovissime auto elettriche. La mobilità elettrica è un valore importante, è un valore importante per il futuro, per la sostenibilità, è un valore importante per la mobilità dei nostri clienti, ma è evidente che per favorire la mobilità elettrica l'infrastruttura di ricarica oggi continua a essere un problema, continua a essere un dubbio, una perplessità per chi vuole abbracciare il mondo dell'elettrico. Questo è il motivo per cui, proprio per favorire la mobilità e lo sviluppo delle auto elettriche, abbiamo deciso come Volvo, in Italia, senza precedenti, abbiamo deciso di lanciare un programma completamente nuovo. Volvo Recharge Highways, così si chiama il programma, sostanzialmente un programma grazie al quale insieme ai nostri concessionari, insieme ai nostri retailers, saremo in grado di installare entro l'anno oltre 30 colonnine di altissima potenza, quindi HPC con 175 kilowatt di potenza, proprio presso i nostri concessionari. Quei concessionari che saranno localizzati molto vicino alle uscite autostradali, così che potremo veramente coprire tutta la penisola, da Bolzano fino alla Sicilia, come si dice, piuttosto che da ovest verso est, le autostrade principali, la 1, la 22, la 4, quelle che insomma sono più importanti per il traffico del business ma che sono anche importanti per il nostro traffico turistico, l'autostrada dei mari, quella che da Rimini porta fino a Bari, così come quella che da Firenze porta fino alla meravigliosa costa toscana. Naturalmente un progetto molto, molto importante a cui teniamo particolarmente. Abbiamo voluto anche dare un segnale, un segnale a quelle che sono le metropoli importanti in Italia, come Milano, dove ci troviamo in questo momento. Proprio qui, vicino al Volvo Studio Milano, in collaborazione con Coima, abbiamo avuto l'onore di presentare la prima fast charge cittadina, quindi la prima fast charge nel centro di Milano. Proprio qui, tra Via della Liberazione e Via Mercurio Reggioia, avremo il piacere di inaugurare tra pochissimo la prima fast charge, anche qui 175 kilowatt, a disposizione dei cittadini di Milano.